Il Consiglio Comunale si riunirà per quattro sedute monotematiche di lunedì a partire dal 15 ottobre. È stato deciso oggi nella conferenza dei capigruppo presieduta da Alessandro Fucito, cui ha partecipato l'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio, Ciro Borriello. Alla prima seduta, che avrà ad oggetto la Convenzione per lo Stadio San Paolo ed in generale gli impianti sportivi, seguiranno il 22 ottobre la seduta su mobilità e trasporti, il 30 sul reddito di inclusione e le politiche di welfare ed il 5 novembre sul patrimonio.